Visti gli articoli di cui rubrica 533-535 CPP dichiara Galeb Gaspare colpevole del reato a lei scritto è esclusa la gravante contestata, lo condanna alla pena di anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese professionali. Visto l'articolo 530 secondo Roma CPP assolve purissi Jessica dal reato a lei scritto per non avere commesso il fatto.